benvenuti a bordo comandanti io sono blizzard e oggi video sul canale youtube molto molto particolare sono veramente contento di fare questo video perché di fatto è un qualcosa che ormai pensavamo di aver lasciato completamente da parte ovvero il ritorno dei tornei italiani all'interno della community world of water ships nelle ultime settimane sono stato contattato dagli organizzatori della italian world ships 100 più c20 24 che questo nuovo torneo che ormai è quasi pronto anti tecnicamente lo è perché le fasi di iscrizione sono già cominciate il video uscirà domenica 20 ottobre perché di fatto quando uscirà questo video mancherà circa una settimana alla chiusura delle iscrizioni e voglio cercare di aiutare anche l'organizzazione nel reclutamento di tutti i giocatori delle squadre possibili per riuscire ad avere un numero notevole di partecipanti come sapete questo evento è organizzato da wops italia che è questo score che è nato praticamente nel 2018 e che da sempre ha visto come unico obiettivo quello di creare coesione all'interno della community creare delle competizioni dei tornei che potessero mettere a confronto i vari giocatori vari clan e farli divertire insieme una sorta di tornei routine annuali a ripetizione come sapete nel corso del tempo buf style organizzato poi l'italia arranca dell'italian cap l'italian league c'erano tante versioni diverse tutto però è andato un po a scemare nel 2021 quando di fatto è andata in onda l'ultima versione dell'italian cap tra l'altro persone molto criticata dalla community è piaciuta a pochissimi e da allora soprattutto anche perché abbiamo perso la figura del community manager che è stato di fatto lasciato da parte della wargaming quella figura all'interno di world of warship non esiste più le attività di clan italiane all'interno dei vari tornei sono diventate solamente in ambito internazionale e a livello italiano non si è più fatto sostanzialmente niente grazie ai rapax e in particolare a pespel che è il leader dei rapax una figura importante e fantastica un ragazzo un signore che ha notevole capacità di spirito e soprattutto di organizzazione ed iniziativa ha voluto cercare di aiutare anche il suo clan mettendo insieme una sorta di competizione già in realtà dalla primavera questa cosa si sta studiando per fornire nuova linfa ai clan e ai giocatori dati che volessero anche confrontarsi in questo genere di competizioni lascia quindi infatti come potete vedere il warship championship 2024 italia warship championship 2024 per l'occasione lui insieme ad alcuni vecchi organizzatori di box italia come grey ghost lo hanno di fatto addirittura ha creato un sito italiano che è www.wopsitalia.com poi vi farò comunque il vedere il link completo ma nel caso ci sarà un link giù nei commenti dove poteste con collegarvi tranquillamente al sito e dicevo comandanti che attraverso questo 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 sito si andranno poi organizzare penso in futuro anche altre edizioni di questi tornei di queste competizioni quindi diciamo che la community sta un po riesumando per quanto riguarda l'ambito del gioco clan contro calma comunque del gioco organizzato competitivo non per forza per i clan perché questa è forse una dell'intro più importanti da sottolineare per questo championship perché non ci sarà solo discorso clan ma è proprio un torneo aperto anche a tutti i singoli giocatori e poi quando vedremo parte del regolamento capirete cosa intendo questo appunto championship si potrà appunto organizzare con clan e senza clan questo perché avrà una modalità particolare di creazione delle squadre che prevede anche l'impiego dei mercenari quindi anche squadre appartenenti a clan diversi anche squadre anche giocatori appartenenti a team internazionali ma di natura italiana è importante che i giocatori siano solo italiani questo è un punto fondamentale del regolamento almeno quando ho letto parte del regolamento mi pare che questa regola fosse ben sottolineata quindi che voi giocate in un team internazionale o in un team di un altro paese o giochiate anche solo in due o tre questo torneo è aperto a tutti clan e non clan quindi anche i piccoli giocatori oppure se volete creare una piccola lega con giocatori non lo so di clan diversi volete creare una squadra per questo evento per questo torneo siete libero di farlo questo torneo viene dalla possibilità quindi con o senza clan giocheranno team clan e team formati da mercenari appunto quindi semplicemente si baserà tutto sul format che poi scopriremo e soprattutto sulle vostre capacità di prepararvi durante il torneo quindi le squadre più forti ovviamente più preparate ad andare più avanti delle altre questo è un po' diciamo che è una cosa importante a sottolineare perché in passato i tornei quasi tutti anche la lega italian cup sono sempre state a uso frutto dei team dei clan senza uno aveva un clan non poteva farci nulla invece in questo caso sarà aperto anche i singoli giocatori sarà il sistema che andrà poi a creare le squadre nel caso in cui uno volesse semplicemente partecipare senza per forza una squadra o un piccolo gruppo di amici o compagni di gioco per quanto riguarda poi un altro punto importante a sottolineare oggi è sicuramente dei dati di modalità e il sito c'è appunto questo sito www.wopsitalia.com che andrà poi a raccogliere non solo le abisioni ma pensiamo anche in futuro altre iniziative che verranno create dalla stessa organizzazione per poi cercare di tornare un po in auge anche a livello di immagine con la wargaming come sapete quando si parla di community italiana è un po restia perché hanno un po tagliato i punti con noi a livello proprio di community dopo la di partita possiamo dirlo del community manager nel 2021 di conseguenza novembre 2021 che di conseguenza sapete benissimo che le cose ora sono molto molto cambiate e investimenti in italia per quanto riguarda world of warship sono sostanzialmente pari a zero è molto importante infatti che ci sia un numero più alto possibile di partecipanti mercenari o clan questo perché sicuramente più squadre riusciranno a portare gli organizzatori davanti alla wargaming per dire questo è il nostro torneo queste sono le squadre poi i giocatori partecipanti e maggiori sono le possibilità che poi la wargaming decida magari di sovvenzionare e sponsorizzare l'evento arricchendo di fatto il monte premi della competizione importante avete tempo fino al 27 di ottobre mezzanotte del 27 quindi la mezzanotte la notte che separa la domenica del lunedì prossimo e per iscrivervi voi o la vostra squadra scegliete voi tramite il sito potete scegliere se partecipare singolarmente partecipare come piccolo gruppo o partecipare come clan ea vostra totale discrezione in base poi al numero di partecipanti ovviamente il torneo avrà un certo tipo di tabellone e di date e di lunghezza come ovvio che sia per quanto riguarda il discorso legato comandanti al formato sarà un formato 7 contro 7 una classico formula diciamo che riconduce soprattutto alle clan battle per non dire anche alcune rank anche se recentemente sono da 6 ma per lo più le rank di posto sono sempre state 7 contro 7 formato appunto clan battle competitivo perché di fatto è un torneo che strizza l'occhio a chi gioca soprattutto in questi ambiti e vuole migliorare le sue capacità nel gioco di squadra ed è un format che prevede anche due fasi del torneo una qualifica all'italiana ovvero un girone dove si affronteranno un po tutti classico campionato all'italiana viene anche definito così e poi una fase a playoff dove ci girano solamente le squadre migliori con eliminazione diretta classico dentro fuori che conoscete bene non so all'interno della champions league per dirvi tavi quarta di finale semifinale insomma sicuramente chi ha bezzo ai tornei sa bene cosa intendo questo un po è il format generale del torneo per quanto riguarda il monte premi è la so che in tanti volete arrivare a questo punto è il monte premi il monte premi ragazzi è un work in progress è un work in progress perché non siamo ancora se e quanto riusciranno ad ottenere gli organizzatori dalla war gaming e oserei dire anche quando riuscirò a ottenere dalla war gaming perché sto cercando anche di attiverò soprattutto nei prossimi giorni di parlare con il responsabile di tutti i community manager internazionali ovvero boxy che vive e lavora dal texas ad austin dove la war gaming ha la sede statunitense di world of warships e attraverso lui sicuramente possiamo avere un monte premi decisamente più ricco rispetto a quello che potrebbe essere senza la partnership della war è fondamentale riuscire ad avere la partner quindi più giocatori più squadre parteciperanno maggiori sono le possibilità che la war gaming e boxy soprattutto decidono di aprire i portafogli e ovviamente arricchire quelli che sono poi i primi che andranno le squadre migliori ai giocatori migliori quindi mi raccomando cercate se volete qualcosa di diverso tra le torri da random rank che sono noiose o le attività di clan che magari vivete da sempre un torneo italiano non capita tutti i giorni è il primo torneo negli ultimi tre anni matematicamente tre anni esatti direi che dargli un po di fiducia dargli un po di linfa dargli un po di ok è il caso di giocarlo sarebbe anche il caso di farlo per i comandanti l'ho detto non è una cosa che viene creata tutti i giorni è un'occasione comunque più rara più unica che rara per partecipare a qualcosa di diverso quindi secondo me fareste bene a considerare l'idea di partecipare a questo torneo c'è poi un discorso legato comandanti ad alcuni regolamenti del torneo giusto l'input e le basi fondamentali comunque regolamento ci tengo a precisarlo è interamente scaricabile nella versione full e la versione inglese italiana e nella versione addirittura accorciata perché hanno pensato anche a questo direttamente sul sito quindi ritrovate tutte le informazioni che volete per essere veramente preparati per questo italian worship championship 2024 queste sono alcune delle regole base siamo proprio i fondamenti numero massimo giocatori per team 10 quindi si gioca 7 contro 7 ma 10 il numero di giocatori massimo consentito una squadra quindi comprese le riserve o il rappresentante o quant'altro e per quanto riguarda poi la seconda regola fondamentale per restare fedeli alle clan battle niente portaerei niente sommergibili una regola che personalmente non trovo assolutamente sbagliata sapete bene che io per sommergibili ho un grande rispetto perché sapete bene che sommergibile comunque andava molto tecnica da giocare non è facile io ho il massimo rispetto sono dei rompiscatole ma io massimo rispetto perché gioca sub e li padroneggio alla grande per le porteerei è un discorso molto più complicato e chi mi conosce bene sa bene cosa penso di chi gioca a porteri oggi in world of warships e dicevo in questo caso comandanti non saranno ammesse da regolamento al torneo quindi chi gioca queste classi ahimè dovrà restare a bocca asciutta ma effettivamente chi gioca queste classi rimane a bocca asciutta al coach e rimane a bocca asciutta nella maggior parte dei tornei internazionali rimane a bocca asciutta anche le clan battle quindi diciamo che chi gioca a porteri o sommergibili solitamente giocare ranked e le random altre modalità dove sono effettivamente sempre attivi sommergibili è molto raro trovarle questi questo è per quanto riguarda il regolamento basso altrimenti ci saranno poi delle limitazioni per quanto riguarda il numero di navi non è che potete schierare 7 corazzate in acqua mentre sarà un numero di limite anche per quanto riguarda magari il pick and ban o altre modalità che potrebbero essere presi in esame e comunque tutte cose che potreste trovare tranquillamente nel regolamento che è tranquillamente scaricabile direttamente sul sito di world of war di wolfs italia.com infine ovviamente i giorni e le coperture perché è importante analizzare anche questo sì comandanti l'evento sarà completamente streamato ovviamente in base al numero di streamer potremo o non potremo coprire tutte le partite io spero che la maggior parte degli streamer italiani che poi non sono tanti di world of worship voglia decidere di coprire questo evento anche perché non sarà streamato solamente nel fine settimana ma si parla di possibili partita anche durante la settimana come un normale campionato che si può giocare il martedì il mercoledì il giovedì normali serate chi segue i campionati americani dell'nba dell'hockey sa bene cosa intende se gioca tutto l'anno durante la settimana i giochi dei giorni feriali non per forza nel weekend come ad esempio il king of the sea quindi chi magari a casa la sera di una settimana e vuole streamare qualcosa di world of war ci sarà libero di farlo anche perché non ci saranno limiti in tal senso gli scontri avranno copertura streaming su twitch e poi le partite verranno giocate la sera durante la settimana quindi possibili giorni feriali c'è dunque precisarlo perché magari qualcuno il fine settimana ha problemi con la famiglia problemi con i figli le figlie ognuno ha i suoi problemi i suoi impegni di famiglia ecco diciamo che farecendo queste cose durante la settimana si spera che la gente sia più libera e quindi possa effettivamente o guardare le partite che sarebbe comunque importante perché la wargaming queste cose le controllerà oltre che i comandanti anche effettivamente partecipare con le proprie squadre o singolarmente nei team mercenari in questo italian warship warship championship 2024 questo bene o male sono le informazioni base che volevo fornirvi per avere diciamo un'inquadratura del torneo mi raccomando se qualcuno volesse non solo partecipare ma anche streamare che lo faccia sapere ai rapax o attraverso il sito si può tranquillamente contattare qualcuno su wopsitalia c'è anche il discord di wopsitalia che magari aggiungerò qui sotto tra i commenti un link di accesso giusto magari qualcuno vuole comunicare con loro anche perché lì dentro trovate tutti i rappresentanti dei principali clan italiani quindi c'è possibilità di parlare con i clan con i dev con gli altri community contributor c'è un po' di tutto con quasi tutti i community contributi in realtà perché c'è anche chi piace stare per i cavoli suoi e da sempre e organizza di sorte di raduni nei ghetti e sotto borghi della community italiana quindi comandanti è un'ottima cosa è un bellissimo torneo è una bellissima iniziativa pass per la pepe sperciate ha fatto un grandissimo lavoro come anche tutte le persone che hanno collaborato e che collaboreranno con lui che saranno i giudici sarà tutto quello che riguarda un torneo serio mi raccomando importante non solo partecipare come squadra ma anche come spettatori non solo seguita me seguita tutti gli altri streamer che parteciperanno perché la wargaming comunque queste cose le controlla in base infatti al successo o meno di un di un torneo ovviamente loro basano anche i loro potenziali finanziamenti futuri questo torneo tra l'altro spie si spera si spera che possa essere non un punto d'arrivo ma un punto di partenza il punto di partenza per riuscire poi andare a ricreare ma tu un'attività di una maggiormente propensa ai tornei che voglia divertirsi in tal senso anche per rafforzare i clan e soprattutto i rapporti che ci sono tra di loro mi raccomando per chi magari avesse paura che ci possano essere dei problemi legati alle collaborazioni allo streaming quant'altro si gioca come sempre per divertirsi comandanti è la cosa più importante la gente vuole divertirsi la gente vuole collaborare la gente vuole cooperare è per quello che si creano questi tornei non c'è un monteprime monetario come ci sarà il cozzi international del mese prossimo ci saranno 100 mila dollari in palio noi lo manderemo quasi sicuramente in onda quindi sapetevissimo che si gioca per divertirsi per passare un po qualche ora insieme per confrontarsi tutti saranno tutelati non ci saranno presi in giro non ci sarà nulla che possa danneggiare i singoli giocatori o i singoli clan quindi se te metti di fare brutta figura quant'altro fidate vedete la mia parola che tutte le persone verranno assolutamente rispettate tutelate dal regolamento e anche soprattutto al sottoscritto quindi non ci saranno problemi in tal senso e non non abbiate paura del vostro livello di gioco per solamente divertirvi che è sempre solo l'unica cosa che conta all'interno dei videogiochi e anche all'interno di world of warships signori quindi qui siamo arrivati alla fine come potete vedere vabbè partita di colcutus una navale leggendaria era un po' anche per risumare un po' i ricordi del passato con con world of warship guarda un po' questo bilanciatissimo un cruiser tirotto cos'è capace di fare quando gioca top tier nave esagerata riservabile oggi solamente dei container di natale o in qualche super container signori io spero davvero che parteciperete numerosi a questa iniziativa perché è fantastica mi raccomando avete fino alla mezzanotte del 27 tra il 27 e il 28 per partecipare al torneo partecipate numerosi perché sarà un'idea bellissima noi lo seguiremo via stream di una settimana e lo manderemo in onda non vedo l'ora di spulciarvi altri contenuti di questo tipo magari ve lo farò sapere in altri video oppure nel mio discord sempre giù nell'info box le informazioni per parteciparvi come sempre vi ricordo sul finale video che noi siamo online della settimana su twitch e lì di fatto che non solo si chiama il termine ma facciamo anche le nostre produzioni principali vi ricordo soprattutto che se amate i miei contenuti se vi piace quello che faccio mi raccomando prendete in questa versione idea di utilizzare il vostro amazon prime al mio twitch basta collegare giù nel primo commento ci sarà il solito link basta fare il piccolo collegamento bastano tre secondi sia buona in maniera completamente gratuita per 30 giorni non pagate assolutamente nulla e obbligate a twitch darci un piccolissimo ma prezioso contributo che serve per migliorare la postazione a fare video sempre migliori come anche l'acquisto recente della nostra fotocamera fantastica mi ricordo che c'è anche l'abbonamento da cinque ore al mese per chi volesse effettivamente supportare il canale anche economicamente per gli affari suoi un abbraccio sempre gigante tutti quelli del business che attivano in questo modo per aiutare il canale e mandare avanti tutta questa baracca gigante che diventa sempre più problematica e costosa da gestire da sottoscritto dal barone e da tutta vovs italia che sembra essere tornata e tutto noi ci risentiamo qua possibilmente credo martedì con un nuovo video come sempre ci vediamo su twitch e da sottoscritto buona caccia e buon torneo su 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 su